Buonasera a tutti gli spettatori, siamo qui con Giovanna Bellucci per la presentazione della locandina ufficiale del nuovo film prodotto da Cronaca e Ugubina. Giovanna, come stai vivendo questo momento? Allora, sono molto emozionata, però è una cosa semplice e carina, quindi sono serena. La sceneggiatura è stata già presentata sul sito e sul giornale Cronaca e Ugubina, però per dovere di cosa non possiamo svelarvela completamente. Giovanna, tu che ne pensi? Allora, la sceneggiatura è molto bella, non si è mai vista perché è un mix tra passato e presente, però non vi svelo altro e vi aspetto al cinema. Questo film è completamente eugubino, il regista è eugubino, gli attori e le attrici sono eugubini e l'ambientazione è eugubina. Giovanna, avevi mai visto una cosa del genere? Assolutamente no, come dicevo prima, gli attori sono tutti eugubini, l'ambientazione è completamente eugubina e sono felice di averne fatta parte. Vi ringrazio tutti. Grazie.